Io sono dell'idea che le norme della prescrizione andrebbero modificate complessivamente, andrebbero modificate con molto equilibrio perché credo che la prescrizione resti un istituto di garanzia per i cittadini, perché i reati devono essere accertati in tempi che sono anche ragionevoli per evitare che i fatti non hanno più senso. Bisogna individuare un criterio che in questo senso consente l'esercizio e l'individuazione dei reati. La legge che c'è, è stata approvata alla Camera, secondo me va nella giusta direzione perché consente una serie di meccanismi di recupero dopo le sentenze di condanna, perché molto spesso dopo una sentenza di condanna la prescrizione è una vera e propria beffa e lì bisogna evitare, ma l'eliminazione della prescrizione secondo me non sarebbe un buon meccanismo perché rischierebbe di portare a condanna o a soluzione i soggetti che sono ormai diversi da quelli che erano. E sulle intercettazioni? Sul divieto di pubblicazione soprattutto. Io sulle intercettazioni credo che il Senato sta facendo un lavoro, oggi saranno sentiti i procuratori, fra l'altro molti uffici giudiziari, il procuratore di Roma, il procuratore di Torino, il procuratore di Napoli, il procuratore di Milano, hanno fatto circolari che hanno già introdotto delle norme di limitazione della pubblicazione. Io credo ci può essere un problema che riguarda la pubblicazione, ma ovviamente non bisogna mettere in discussione l'utilizzo dello strumento che mi pare per fortuna in questo momento nessuno mette in discussione. Una legge seria sulle liste pulite potrebbe servire ad evitare ulteriori fenomeni come quello napoletano che vediamo adesso e anche i cosiddetti impresentabili che abbiamo visto alle ultime regionali? Le dico con grande franchezza che non si può pensare di risolvere tutto con la legge perché ci sono fenomeni nei quali ci sono impresentabili che hanno certificati penali immacolati. Si può sicuramente migliorare dal punto di vista delle norme, ci sono norme che vanno sicuramente introdotte che per esempio siano molto chiare nei confronti di alcuni condannati anche con sentenze non passate in giudicato, però non si può risolvere tutto con la legge. Ci sono tanti impresentabili che hanno certificati penali immacolatissimi.